gioia sport punto com il blog dello sport gioiese il blog sportivo della tua città riuscissimo appunto a fare queste imprese ecco sei fatto così bene anche perché dietro c'è chi ti ha supportato a meraviglia può ringraziare qualcuno l'hai già fatto un qualche cena speciale no no io ringrazio il mister che insieme alla squadra che sono riusciti a mettermi in condizioni appunto di realizzare queste reti che poi sono servite alla vittoria del campionato allora so che non proprio c'è la certezza assoluta di una tua riconferma insomma ci puoi chiarire un po' cosa sta succedendo sarà ancora in l'agri sì no cosa farai diciamo al 90 per cento sì dei partecipanti a questo campionato di eccellenza la classifica veritiera secondo te ovviamente di quello che segue all'atria io penso che penso di sì perché alla fine non stiamo parlando di una due tre quattro partite ma parliamo di 30 partite quindi alla fine alla lunga poi le i veri valori escono fuori quindi secondo me è stato giusto anche il campionato che ha fatto il Solerato lo scoria stesso il Monte Alto mi dispiace per il Roccella perché secondo me meritava anche un piazzamento nei playoff ha avuto forse la sfortuna di incontrare noi l'ultima partita questo però spero il campionato è stato secondo me giusto gioiasport.com il blog dello sport gioiese il blog sportivo della tua città 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 città